Siamo contenti di dire quest'oggi che ha sempre ragione lui, chi è lui? Claudio Ragneri. Perché possiamo dire questa cosa? Perché quest'altra vittoria è arrivata per l'ennesima volta con i cambi che Ragneri ha fatto. Se volessimo per forza criticare dovremmo dire, e sto scherzando, in questo caso che sbaglia sempre le formazioni ideali, perché poi è quando le corregge che il Cagliari vince. Ma sta di fatto che nelle ultime tre partite, addirittura quattro partite, i gol segnati dal Cagliari sono stati nove in tutto e otto volte li hanno realizzati coloro che sono entrati poi sostituiti, fatti entrare da Claudio Ragneri. È capitato quest'oggi allo stesso modo. Tutti avrebbero avuto da ridire dopo il primo tempo in cui il Cagliari ha faticato a reggere il gioco del Genoa, che molto più spesso è stato dalle parti del Cagliari, con un baricentro più alto, con un centrocampo che ha girato di più, con un Cagliari costretto non tanto a subire tantissime occasioni da gol, ma comunque a stare nella sua tana con grandi difficoltà anche a ripartire. Tutti reclamavano, me compreso, la presenza magari di un attaccante di ruolo. Bene, in avvio di ripresa l'attaccante di ruolo Ragneri non l'ha messo. Ha fatto un cambio che forse avremmo fatto tutti, quello di Zappa al posto di Azidiakos, che si vedeva che era in serie difficoltà, riportando Goldaniga al centro. E poi ha inserito Viola, Viola al posto di Mancosu. Poteva non cambiare niente e invece, vai a vedere, ricordate, Zappa e Viola. Zappa e Viola sono quelli che poi nel corso della partita, prima Viola ha fatto il gol sull'azione portata avanti da Ulistanio, anche se poi la presenza di Goldaniga centrale non ha pagato, perché immediatamente dopo il gol da Ulistanio, che è stato spostato dalla corsia di destra alla coppia centrale, scivolato, colpo di testa, suicida e gran gol di Gudmundson per il pareggio del Genoa. Ma poi altro cambio, ingresso di Petagna al posto proprio di Ulistanio, che sembrava essere colui che aveva rianimato il Cagliari, perché poteva giocare accentrandosi, aveva dato l'assist a Viola per il gol e sembrava potesse diventare in quel momento il giocatore indispensabile. Invece esce proprio lui, entra Petagna e che succede? Petagna fa l'assist per Zappa, anche lui sostituito nel secondo tempo. Insomma, contestare Ranieri è un brutto mestiere, un pessimo mestiere, perché poi nel momento in cui il Cagliari vince ti rendi conto che vince soprattutto perché la lettura della partita è quella di Claudio Ranieri. Insisto, forse per poterlo criticare ancora dovremmo dire che non azzecca mai la formazione iniziale, visto che poi è costretto a fare i cambi per riuscire a centrare il successo. A parte tutto questo, analizziamo il Cagliari, guardiamo la luna e non guardiamo il dito. Il Cagliari che risale in classifica fa altri tre punti, fa un balzo in avanti, esce per la prima volta dalla zona retrocessione. Inizia qui un altro campionato, perché oltre alle tre squadre che ti sei lasciato dietro, ce ne sono tante altre che sono un tiro di schioppo e a questo punto quel che è rimasto del giro d'andata non ti vieta assolutamente di pensare che tu possa arrivare ai fatidici 20 punti, quelli che abitualmente sono la quota che viene identificata per il giro di Boa, per la quota salvezza al giro di Boa. Bene, il Cagliari ha ripreso a giocare, ha ripreso a macinare e si può permettere, dopo essere stati eroi, di tenere in panchina sia a Pavoletti sia alla Padula. Pensate un po' che ricchezza, da qui dobbiamo ripartire, ma ripartiamo certamente con una consapevolezza diversa e ora, forse, anche con una ricchezza diversa. Grazie per la visione!